Metti il punto esclamativo alle tue idee! Snack Eventi! Spettacoli di animazione e intrattenimento per matrimoni ed eventi privati! Attività di promozione personalizzata rivolta alle aziende, con tante idee creative e innovative! Noleggio attrezzature, costumi e mascotte! Servizi hostess e promoter! Snack Eventi.com! Anche su Facebook! E per i più piccoli, Snack Club! Non solo ludoteca e baby parking, ma punto ricreativo e creativo presso Parco Commerciale Le Zagare! Seguici su Radio Antenna 1 con Snack Time! Grazie a tutti!